Nata nel 1899, CPL Concordia è una delle più importanti e longeve società cooperative italiane del settore energia e servizi. Nel 1963, con la realizzazione della prima rete gas, inizia per CPL un periodo di trasformazione e rapido sviluppo verso l'intero mercato energetico. Oggi CPL Concordia fornisce i suoi servizi ai maggiori distributori di gas sul territorio italiano. In CPL Concordia forniamo ai nostri operatori i migliori strumenti di lavoro offerti dal mercato. Questo ci permette da 120 anni di realizzare un aspetto essenziale della nostra mission, migliorare il comfort e la qualità della vita delle persone, utilizzando tecnologie efficienti e compatibili con l'ambiente, per garantire la massima sicurezza nell'erogazione della risorsa gas. Anche CPL Concordia ha partecipato alla rapida evoluzione che negli ultimi anni ha visto tutta l'industria rivedere i propri paradigmi. Parliamo ad esempio di Digital Transformation. Parte del mio lavoro consiste nell'eseguire attività di analisi e ricerca in ottica di digitalizzazione dei processi e di miglioramento continuo. Questo mi ha portato a conoscere Panasonic e la sua linea Toughbook, una garanzia per quanto riguarda notebook e tablet per l'utilizzo in esterno in condizioni di lavoro difficili. Le squadre di lavoro sul territorio avevano bisogno di un device che potesse resistere agli urti, lavorare sotto la luce diretta del sole, sostenere un intero turno di lavoro e che fosse ergonomico per garantire la massima usabilità sul campo. Inoltre era importante per noi lavorare con un partner abituato a rapportarsi con le aziende e rispondere con tempi e modalità tipiche del B2B. Il Toughbook FZG1 assiste gli operatori di CPL in diverse attività, tra cui l'installazione e manutenzione dei contatori e l'ispezione metrologica. Il servizio garantisce la conformità alle norme costruttive e fiscali e consente ai clienti di CPL che distribuiscono gas di emettere bollette a prova di errore. Utilizziamo la FZG1 anche nella ricerca della dispersione di gas. Operiamo con otto veicoli equipaggiati con altrettanti Toughbook che permettono all'operatore di integrare in tempo reale i dati dallo strumento rilevatore con le coordinate del veicolo. Questo ci consente di automatizzare e velocizzare la produzione di reportistica specifica per il committente. I device Toughbook sono famosi in tutto il mondo per la loro affidabilità e dopo tre anni di partnership non possiamo che confermare quanto il mercato attribuisce a questi prodotti. Posso dire che la qualità del servizio riconosciuta CPL Concordia passa attraverso scelte vincenti. Noi abbiamo scelto Panasonic.